La Guardia di Finanza di Pesaro ha sgominato un'organizzazione criminale che da tempo organizzava truffe ai danni di svariate compagnie assicurative inscenando falsi incidenti stradali. Dopo aver ricostruito 100 sinistri avvenuti nelle province di Pesaro e Rimini ed analizzato un periodo di 4 anni, sono risultati ben 79 i falsi incidenti e oltre 600.000 gli euro riscossi illecitamente per gli indennizi. Denunciate pertanto alla Procura della Repubblica 212 persone, 26 delle quali individuate come le promotrici dei falsi incidenti. Ai vertici dell'organizzazione l'avvocato fanese Sergio Sciavo, un suo collega di Taranto già radiato dall'Ordine per rearti simili ed un faccendiere pesarese che si sono avvalsi della connivenza di personale medico di un centro diagnostico di Fano e di un'agenzia di pratiche auto di Vallefoglia. Particolarmente spregiudicata e senza scrupoli questa organizzazione ha tessuto nel tempo una ramificata rete di persone sparse in diverse regioni d'Italia, principalmente del sud ma anche di nazionalità dell'est Europa e del Nord Africa. Per raggirare le assicurazioni diverse erano le metodiche messe in atto dal gruppo, dalla simulazione per strada con mezzi già danneggiati, alla denuncia a diverse compagnie dello stesso incidente, fino alla compilazione falsa della constatazione amichevole o più feriti coinvolti nello stesso incidente. In un caso era stata coinvolta una donna incinta con l'intento di far assumere alla puepera, prima del falso incidente, un farmaco per l'interruzione della gravidanza e ricondurre così la perdita del feto all'incidente per ottenere centinaia di migliaia di euro di indennizzo. Diversi i reati contestati all'organizzazione, che vanno dall'associazione a delinquere al danneggiamento fraudolento di beni assicurati, alla sostituzione di persona e falso documentale.